Quindi a 17 anni la mia prima reazione è stata di studiare tantissimo, di fare milioni di corsi, pomeriggi, tanto sport, focalizzarmi proprio, volevo imparare, volevo vivere, volevo conoscere. Avevi già un obiettivo? Sì, volevo continuare a studiare psicologia, fare marketing e lavorare per una grande azienda o qualcosa, insomma avevo più o meno un'idea. Volevo fare qualcosa di grande, mi vedevo nel business, mi vedevo in giacca e cravatta già a cinque anni. Però non dietro una scrivania ma girando il mondo? Sì, sì, non volevo un lavoro. Una donna in carriera che comunque scorava la vita tutti i giorni. Qualcosa che ancora sembrava quasi impossibile in quel periodo, però era quella la voglia, non volevo stare dietro una scrivania tutto il tempo. E quindi dopo quell'anno invece, come si dice in Sicilia, mi sono girata la coppola al contrario. Invece ho iniziato a far tardi la notte, ho incontrato Stefano tra l'altro, ho iniziato a far tardi la notte, mia madre mi dava la ritirata, io alle 4 del mattino, ho fatto 3 mesi di assenze, ho recuperato all'ultimo, tipo università, tutte le materie. Quindi 17 anni, l'anno dopo dai la maturità, la passi proprio sul filo del rasoio? Esatto. Conosci Stefano a 17 o dopo? A 18. Ok. L'anno in cui poi cambia qualcosa. Cambia qualcosa, esatto. Quindi diventi un po' ribelle contro le famose regole.